Io ora sto lavorando con una galleria d'arte. Sto conducendo un lavoro di ricerca indipendente all'interno della galleria e il mondo delle gallerie odierne si sta ampliando alla ricerca, all'esposizione di lavori che servono a costruire un apparato anche teorico, forte per il supporto della galleria e la linea che deve avere. Quindi c'è un lavoro curatoriale molto forte e molto interessante anche all'interno del circuito delle gallerie commerciali, però il mondo istituzionale mi interessa anche perché fornisce dei paletti entro i quali tu ti devi muovere. Io credo che è utile avere dei limiti o delle strutture entro le quali muoversi perché si impara a farlo in modo intelligente, in modo astuto. Grazie a tutti.